Buongiorno e benvenuti! Tra pochissimo uscirà una nuova serie su Falcon and the Winter Soldier e avete bisogno di una rispolverata di memoria? Oppure è il vostro primo approccio all'MCU e volete capire chi sono questi personaggi? Bene, in questo video troverete tutto ciò che dovete sapere per guardare Falcon and the Winter Soldier. Iniziamo subito! Veniamo introdotti a James Barnes, chiamato più semplicemente Bucky, nel primo film su Capitano America, quindi durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Bucky è il miglior amico di Steve fin dall'infanzia, lo supporta e occasionalmente lo difende dai bulli. Si candida per entrare in esercito e viene arruolato, e durante le sue prime missioni combatte al fianco degli Howling Commandos, ma viene anche catturato dall'Hydra con Arnim Zola che conduce esperimenti su di lui. Steve poi, dopo la sua trasformazione grazie al siero del super soldato, si unisce alla guerra e salva Bucky dall'Hydra. Partono quindi per combattere fianco a fianco, ma nel cercare di sconfiggere Teschio Rosso, Bucky cade da un treno in corsa e viene dato per morto. In Capitano America dei Winter Soldier però ci viene rivelato che Bucky non è morto, bensì è stato recuperato dall'Hydra che ha fatto esperimenti su di lui, ibernato e trasformato in uno dei soldati d'inverno, delle armi umane mentalmente controllate dagli esponenti Hydra, sfruttati per eliminare le loro possibili minacce nel corso di decenni, e quindi risvegliate dall'ibernazione solo per mandarle in missione e prevenire così l'invecchiamento. In particolar modo, Bucky presenta anche un braccio prostetico, a seguito della perdita dell'arto dopo la caduta dal treno, e nel film uno dei suoi target ad eliminare è Nick Fury, e successivamente proprio Steve. Vediamo quindi i due ex migliori amici, che hanno combattuto fianco a fianco, ritrovarsi qui dopo decenni ed essere messi uno contro l'altro. Finché Steve, che crede ci sia ancora del buono in lui e possa sbloccare i ricordi su chi sia davvero, pronuncia la frase emblematica del duo, ossia I'm with you till the end of the line. Il soldato d'inverno quindi decide di risparmiare la vita a Steve, e riappropriandosi da alcuni dei suoi ricordi, abbandona l'Hydra per cercare di capire chi sia davvero e fare i conti col suo passato tumultuoso, e così scompare dai radar. Lo rivediamo brevemente nella scena post-credit di Ant-Man, dove scopriamo che Sam è riuscito a rintracciarlo. Successivamente lo ritroviamo in Capitan America Civil War, dove dopo essere riuscito a tornare in contatto con la sua vera identità, viene incastrato per l'assassino di Chaka, e costretto a diventare un fuggitivo. Nonostante sia aiutato da Steve, che vuole proteggerlo e ricongiungersi con lui, viene catturato dal governo e messo sotto analisi psichiatrica da un personaggio che si rivelerà poi essere il Barone Zemo, il quale tramite una serie di specifiche parole lo riporta allo status di Winter Soldier. Da qui, e a causa della questione degli accordi di Sokovia, si viene a creare una situazione di conflitto interno agli Avengers, che si schierano in due fazioni, Team Cap e Team Iron Man. A seguito del loro scontro, Bucky, Steve e Tony si recano in Siberia per combattere Zemo, e si viene a scoprire che Bucky, come Winter Soldier, era stato colui che, per conto dell'Hydra, ha ucciso i genitori di Tony Stark. Bucky, Tony e Steve iniziano quindi a combattere, in quanto Tony si addira con Bucky per ciò che ha fatto, ma perde anche la fiducia per Steve in quanto non gli ha rivelato la verità prima. Dopo lo scontro tra i tre, che vede Bucky addirittura cercare di strappare il reattore ARC di Tony e questo distruggere il braccio di Bucky, questi si dividono e Bucky viene portato in Wakanda. Qui, infatti, chiede aiuto e viene ibernato finché non riusciranno ad estrarre dalla sua mente qualsiasi componente Hydra abbia inserito nel corso degli anni. Prima di Infinity War lo vediamo quindi brevemente in una scena post-credit di Black Panther, dove viene avvisato della battaglia che sta giungendo e gli viene donato un nuovo braccio, stavolta di Vibranio, e viene anche chiamato White Wolf, altro suo alias fumettistico. In Infinity War lo vediamo combattere in Wakanda, al fianco degli altri eroi, anche in una breve ma epica scena con Rocket Raccoon, dove lo tira su e insieme iniziano a sparare ai nemici. Sarebbe bellissimo vedere Rocket cercare di rubargli il braccio. Alla fine del film, dopo lo snap di Thanos, Bucky scompare. Infine lo rivediamo alla fine di Endgame, nel momento in cui tornano tutti gli eroi. Combatte quindi anche lui insieme agli altri, attende il funerale di Tony e assiste alla dipartita di Steve, che ha il compito di riportare le gemme dell'infinito al loro posto, ma decide di rimanere nel passato e vivere con la sua amata Peggy. Per finire assiste al passaggio di testimone tra Steve e Sam, e questa è l'ultima volta che lo vediamo. Sam Wilson invece appare per la prima volta in Capitano America The Winter Soldier, quando Steve decide di fare i giochi in mattutino e si imbatte in Sam, superandolo ripetutamente e pronunciando ogni volta la stessa parola, ossia on your left, quindi alla tua sinistra. Frase che diventerà un inside joke dei due. Scopriamo quindi che anche Sam ha servito nell'esercito ma per avvio soccorso, finché il suo collega non è morto e ora tiene un gruppo di sostegno per ex soldati. Steve e Sam stringono da subito un forte rapporto dovuto sia al loro passato militare, ma anche alla simile etica e moralità dei due. Nel corso del film, Sam si offre di aiutare Steve e Natasha nella lotta contro Hydra e Winter Soldier, mostrando il prototipo di armatura usato durante il servizio presso l'Air Force. A seguito dei vari scontri con gli esponenti scagnozzi Hydra, Sam accetta di aiutare e rintracciare Bucky, mentre Steve va in missione contro il barone Von Strucker visto in Age of Ultron. In questo film compare anche Sam durante la scena della festa all'Avengers Tower, e a fine film quando viene reclutato come membro degli Avengers insieme a Wanda, Visione e Rodei. Lo rivediamo poi brevemente in Ant-Man, quando Scott tenta di entrare nell'Avengers Facility, ma viene fermato appunto da Sam vestito con la sua armatura da Falcon, e nella scena post-credit dove avvisa Steve che è riuscito a rintracciare Bucky. Lo ritroviamo poi in Capital America Civil War durante lo scontro con Crossbones, dove tra l'altro appare per la prima volta Red Wing, un drone da combattimento che nei fumetti però è il nome di un vero e proprio falco con il quale Sam ha una connessione telepatica. Successivamente nel film lo troviamo nel team di Cap per quanto riguarda la questione degli accordi di Sokovia. Aiuta Steve a rintracciare Bucky, ha un primo incontro con Tachalla, prendendolo in giro per il suo abbigliamento, e abbiamo qui una vera prima interazione tra lui e Bucky. Vediamo tra i due fin da subito parecchia tensione, prima in macchina quando Bucky chiede a Sam di spostare il sedile, e poi durante il combattimento in Germania, quando si scontrano con Spider-Man e si insultano reciprocamente. Dopo lo scontro col team di Iron Man, risultato nella quasi morte di Rodei, Sam, Scott, Wanda e Clint vengono arrestati rinchiusi nel raft, ma alla fine del film vengono poi liberati da Steve, che assieme a Sam e Natasha vanno in un'altra missione. Ricompare anche in Infinity War, entrando in scena con Cap e Natasha per aiutare Vision e Wanda, attaccati dal Black Order di Thanos, e assieme si recano tutti in Wakanda, dove ritrovano anche Bucky. Successivamente combatte al fianco degli altri eroi nella battaglia contro Thanos, finendo però a seguito dello snap ridotto in cenere. Infine compare in Endgame, nella scena dei portali, riproponendo a Steve la loro tipica frase, On Your Left, e combattendo al fianco degli altri eroi. Attende poi il funerale di Tony, assieme a Bucky guarda Steve andare in missione per riportare le gemme, ma una volta ritornato in scena ormai anziano, viene approcciato da lui che gli passa il testimone e il titolo di nuovo Capitano America. Helmut Zemo, ex colonnello delle Forze Armate Sokoviane, compare solo e unicamente in Capitano America Civil War, dove scopriamo che viene appunto da Sokovia e ha perso padre, figlio e moglie per colpa della battaglia avvenuta durante Age of Ultron. Durante il film però ci viene introdotto come Theo Broussard, uno psichiatra ingaggiato per valutare lo stato mentale di Bucky, che Zemo uccise per potersi fingere lui e arrivare a Bucky, riportandolo quindi al suo stato mentale di Winter Soldier e richiedendo il rapporto sulla missione del 16 dicembre 1991, il giorno della morte dei genitori di Stark. Fugge poi in Siberia per risvegliare gli altri soldati sottoposti al programma del soldato d'inverno. Una volta arrivati Steve, Bucky e Tony in Siberia, Zemo però uccide i rimanenti soldati, spiegando il suo vero obiettivo, ossia di vendicarsi contro gli Avengers per via del suo lutto, e intendeva fare ciò incastrando Bucky, facendolo passare per il colpevole della morte di Chaka, portando così alla divisione degli eroi, e Tony a scoprire dell'omicidio dei suoi genitori da parte di Bucky. Infatti, sapendo che non sarebbe mai riuscito a uccidere i vendicatori con le sue mani, ha fatto in modo che crollassero dall'interno e si uccidessero a vicenda. Completata la sua missione, cerca di uccidersi, ma viene fermato da Challa, che lo ammonisce che i vivi non hanno ancora finito con lui, e viene così imprigionato. Vediamo per la prima volta Sharon Carter in Capitan America The Winter Soldier, dove però si introduce a Steve come la sua vicina di casa infermiera. Successivamente rivela di essere l'agente 13 dello SHIELD, e di essere sotto copertura con il compito, dato da Nick Fury, di proteggere Steve. Durante il film si schiera con Cap per combattere l'infiltrazione Hydra, e a seguito del crollo di SHIELD si unisce alla CIA. Successivamente compare in Capitan America Civil War, durante il funerale di Peggy Carter, il primo vero amore di Cap, dove si scopre che Sharon è la pronipote di Peggy. In seguito viene l'aiuto di Steve e Sam, ridando all'ultimo la sua armatura, e cercando di fermare Bucky come Winter Soldier. La vediamo poi aiutare nuovamente Steve, riportandogli la sua armatura e scudo, cosa che le cosa ha di diventare fuggitiva, e scambiando con lui un bacio. Successivamente in Endgame scopriamo che è stata anche una delle vittime dello Snap, che è poi ritornata. Quello che sappiamo finora sulla serie è che sarà divisa in sei episodi, ognuno dei quali tecnicamente dovrebbe durare tre quarti d'ora. Ma d'altro canto avevano detto una cosa simile anche per WandaVision, e se lasciano i credit di sette minuti non è che vale proprio. E dovrebbe avere collegamenti con altri tre progetti dell'MCU. Tirando a indovinare mi verrebbe da dire Armor Wars, Secret Invasion e o Hawkeye oppure She-Hulk. La serie chiaramente vedrà in profondo il rapporto di Bucky e Sam, che da frenemi diventeranno probabilmente sempre più amici, probabilmente legandosi anche per la loro amicizia con Steve, e possibilmente la sua di partita. E andranno incontro a dei nemici, in primis il ritorno di Zemo, ora con una maschera più simile a quella dei fumetti, ma sappiamo anche che tornerà a Batroc, precedentemente e molto brevemente visto in Winter Soldier, ma che nei fumetti è conosciuto come un abilissimo acrobata, nonché mercenario. Inoltre la serie tratterà fortemente temi come il razzismo, in quanto vedremo l'azione del governo, contrario al passaggio dei testimoni del nome di Capitano America da Steve a Sam, che nominerà spontaneamente un Capitano America separato, fisicamente più simile a Steve, e rinnegando quindi Sam. Sappiamo anche che la serie si ispirerà alle manifestazioni quali Black Lives Matter, e svilupperà la relazione di Sam a tutto ciò, il quale, a detta di Anthony Mackie, si è sentito sotto pressione per la responsabilità datagli da Steve. Ma vedremo anche questioni di salute mentale, in particolare sul disturbo PTSD, in quanto entrambi Sam e Bucky ex soldati, le conseguenze del ritorno della popolazione dopo Endgame, e la ridefinizione del concetto di eroe. Quello che spero e immagino la serie andrà a toccare, sarà quindi il rapporto tra i due, Fomico ma sempre alquanto teso, il loro periodo da soldati e le conseguenze, i loro legami familiari, in quanto è già stata confermata l'apparizione di una sorella di Sam, quindi è possibile vedremo anche qualche membro della famiglia di Bucky, magari un discendente, una trama vera e propria per Sharon, che spieghi magari dove è stata tra Civil War e Infinity War, visto che era fuggitiva, la questione di chi dovrebbe prendere lo scudo e il cap e portare quindi avanti il suo lascito, la di partita fisica o solo mancante all'azione di Steve, per il quale sembrerebbe che vedremo una sorta di onoranza funebre durante la serie, il passato da Winter Soldier e di Bucky, come potrebbe ancora influenzarlo, e possibilmente il loro coinvolgimento futuro nell'MCU. Ecco tutto quello di cui avete bisogno per guardare Falcon and Winter Soldier, quindi siete emozionati, curiosi per questa serie, cosa sperate che accada, cosa sperate di vedere? Fatemi sapere tutto nei commenti, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, in quanto appunto vedremo tutti gli episodi di Falcon and Winter Soldier insieme, e quindi ci vediamo presto con il primo episodio di Falcon and Winter Soldier. Ciao! Grazie a tutti.